Care amiche ed amici, volevo annunciarvi il mio prossimo congresso che farò e quest'anno vorrei inviare l'invito alla partecipazione anche a tutti i miei pazienti. Quanti video ho fatto nell'ultimo periodo per spiegare un po' la mia filosofia di richiedere dei lavori naturali, correzioni naturali. Bene, la partecipazione a questo congresso dove ci saranno alcuni colleghi russi che verranno e parleranno della loro esperienza qui in Italia, a Milano, in centro a Milano e ci saranno moltissimi colleghi italiani che io conosco molto bene, sarà un momento di aggiornamento medico. Però penso e quindi volevo invitare anche i miei pazienti, penso che anche per i pazienti possa essere un momento interessante per sapere le ultime novità, per conoscere cosa ne pensa un vero esperto di queste cose. Per cui con questo video volevo invitare i miei pazienti la partecipazione a IPAM 2017 che si terrà qui a Milano il 9 e 10 giugno 2017 al Gran Visconti Palace che è un bellissimo storico hotel di Milano. Potete iscrivervi semplicemente cliccando su ipamcongress.com lo trovate immediatamente, potete vedere il programma se è interessante. Nella prima giornata abbiamo l'esperienza russa e alcuni workshop pratici, mentre nella seconda giornata avremo invece il vero congresso italiano con anche la partecipazione e la traduzione in simultanea italo-russa perché avremo una nutrita schiera di partecipanti russi. Spero di vedervi al congresso e di salutarvi personalmente. Vi ringrazio molto.